Buonasera, ci senti? Cerco di essere breve perché ho capito che i detti sono molto rispettivi. Come iniziato da chi mi ha preceduto, è evidente che l'area in questione presenta un'alta percentuale di cittadini compresi nella fascia terza età, spesso titolari di redditi da pensione meglio bassi, condizioni di salute non ottimali, in buona parte privi di mezzi propri di locomozione e di conseguenza con serie di difficoltà a raggiungere altri punti di vendita, specialmente alimentari, a distanza maggiore dell'attuale. Tale somma di condizioni costringerebbero molti a una regressione di fatto di 40 anni, tornando ai primi anni settanta in cui coloro, ne compreso e tanti qui nei presenti, che all'epoca erano soltanto giovani coppie affettuali di mobili dell'Irda, si vedevano costrette per i propri acquisti a servirsi delle botteghe di vicinato, con aggravio notevole dei costi, soprattutto nel settore alimentare. Tenuto conto dell'incidenza della quota alimentare nella spesa di questi soggetti è la più rilevante, tale fatto andrebbe a incidere negativamente e pesantemente sulle condizioni economiche di questi cittadini. Sul volo sull'implicazione di carattere relazionale, la chiacchiera con la cassiera o meno, ma è il legno che la funzione sociale per gli abitanti, specialmente per le persone anziane, è fondamentale. E su questo le istituzioni è bene che facciano una sana riflessione. Il discorso della chiacchiera con le cassiere non è poi così, pellegrino. Pensiamoci. La chiusura dell'attività commerciale per un periodo di certo lungo a causa dell'evidente necessità di disprimo di pratiche burocratiche per la riassegnazione comporterà sicuramente uno stato di abbandono della struttura, del suo complesso, con il rischio più che evidente che l'area interessata possa essere soggetta a tutta una serie di problemi, quali infusioni debili, ricovero per senza tetto aggivi, spacciatori e tutto il resto. In ordine, l'area di parcheggio, ormai senza alcuna forma di controllo e pulizia, garantita finora da telecamere e da personale dell'estruga, potrebbe diventare ricettacolo di ogni sorta di sudiciumi, malaffare, prostituzione, spaccio, come anche luogo di aggregazione a carattere alcolico. Pensiamo alla ricorrente questione della guida al centro, che tutti leggiamo quotidianamente cosa succede, e come lo stesso la zona delle cascine con le megafeste a base di alcol del fine settimana, i cui risultati si vedono le ore di mattina, soprattutto per quelli che passano e devono andare dall'altra parte della città. Mettendo non solo in pentaglio la sicurezza degli stessi abitanti, delle abitazioni, delle auto parcheggiate e delle via viacenti, ma regredendo l'intero quartiere ai tempi in cui l'isolotto era universalmente malfamato. Molti di noi ricordano i tempi, per fortuna o mai lontani, in cui dire di abitare l'isolotto comportava la patente di rientro. Soluzione da ventesse lunga, presentata con una paracea a chiusura per raggiungere il supermercato di via Garova, con partenze cadenzate ogni ora. Per fare un semplice esempio, l'approssimarsi all'interno con le condizioni climatiche della stagione comporta per molti cittadini un ulteriore aggravo di disagio, specialmente per le persone con disabilità o con supporto di ambulatore. Tempi lunghi di attesa, ombri o di orari prestabiliti, necessità di auto-menzi donne per rincarruzzamento disabili. Questo, dalla venta, la resse lupano da te. Insomma, una lotta con il cronometro per poter far conto di altre manzioni quotidiane e con le proprie difficoltà. Vi immaginate i tempi di carrosamento sul mezzo e se lunga di persone non viagulanti o non autosufficienti o un'altra in attesa di partire? Commenti, proteste, un'umiliazione per persone che fino a ieri erano con noi, andavano al supermercato quanto e come volevano, e non avevano bisogno di essere servite, accompagnate, incarruzzate e sistemate. Immaginate le persone che per non perdere la navetta, col freddo, col sole, con la pioggia, arrancheranno magari sedia rotelle, con il rischio per un ritaglio di pochi minuti di dover aspettare un'altra ora. Navetta, no grazie. Quella che oggi partire può offrire ai cittadini è il risultato di lotte, manifestazioni, proclame, che nel corso degli ultimi quarant'anni che noi abbiamo portato avanti per elevare non solo la nostra qualità della vita, ma anche quella della città, e non abbiamo intenzione di rinunciarli per scende non nostre. Ricordo quel semplice semplice attività di città usci, nato per volontà degli abitanti, sulle discariche delle distelle, oggi parco giochi, è il punto di aggregazione importante e qualificabile dell'azienda. La riqualificazione delle periferie, la lotta al degrado, si ottengono conservate e mantenendo quanto di buono esiste, specialmente quando oltre che utile è anche funzionale, non rispettendo i servizi. Le istituzioni preposte, al meglio della firma della delibera di chiusura, si sono posti il problema dell'impatto sociale, economico, ambientale, immobiliare, immobiliare in Parigi, guardandolo da parte del cittadino. Riflettiamo sul fatto che l'accessazione di un servizio rilevante in un supermercato comporta anche una requalificazione dell'aria e quindi un depreciamento del valore degli immobili, con danno generalizzato che ricape su tutti i proprietari di case, utilizzatori e non del supermercato. Rosso è tempo, signor. Tempo? Diciamo un segnale. Sì, ho finito. Pertanto invitiamo le istituzioni, il primo luogo in comune, a farsi parte dirigente nel verificare la possibilità di mantenere questo servizio, nel rispetto degli impegni presi con i cittadini e nell'ottica della tutela degli deboli. Grazie. Grazie.